Ciao ragazzi e benvenuti nuovo al nostro canale di Youtube, io sono Mirko Stortini e questo è il canale da Progetto Gelato Italiano, scuola di sorveggio italiano tradizionale. Ora, oggi facciamo una aula pratica, come potete vedere, diciamo che sto in una sala differente rispetto a quello che voi stanno acostumati, perché in questa epoca sto qui in Italia, dando un curso in Italia, la nostra scuola qui in Italia, quindi stiamo in una sala, ma tutto bene, seguiamo, non vamo lasciare, diciamo, i Brasileiros in mano, non? E, anche così, seguiamo la nostra gente e vedremo che facciamo più corsi, anche nel Brasile, cioè, facciamo un po' in Italia, un po' in Brasile. Ma vamo parlare sulla aula di oggi, che è una aula abbastanza importante, perché? Perché oggi voglio mostrare per voi come fare un sorveggio, un gelato típico da epoca di Natale, o sia, un gelato di... Tadà! Panettone, gente! Io già comprei il nostro panettone, come sempre, vamo mostrare come fare un sorveggio senza usare nessun aroma, ma direttamente come usare il panettone. Lembrando che il panettone è un dolce típico italiano, da l'area di Milano, Lombardia, da quella l'area là, che, con i passati due anni, si, poi, diciamo, virò típico, per esempio, anche nel Brasile, ma anche in altri paesi. Quindi, come prima cosa, vamo fare un balanceamento della ricetta, prima di passare la parte pratica, la pesazione dei ingredienti, tutto questo. Quindi, prima, vamo fare un balanceamento, quindi, vamo nel nostro software, che, vamo a vedere come introduzire un nuovo ingrediente, in questo caso, il panettone, dentro la nostra lista di ingredienti, nel nostro software, e vamo, anche, vamo a vedere come balanceare questa ricetta. Quindi, vamo là, nel software, e vamo balanceare la nostra ricetta. Molto bene, pessoal, inton, agora stiamo nel nostro software, oggi, vamo balanceare la nostra ricetta di servizi di panettone, e, dopo, svoltaremo nel nostro laboratorio, per fare la parte pratica. Come sempre, entriamo in ricetta. Ademais, a Ghi, la prima cosa che devo fare è introduzire il panettone come ingrediente. Quindi, vamo in limpar, qui, vamo in, eh, mettiamo, panettone, che, ancora non abbiamo, e, mettiamo in 100 grammi, perché, i valori nutrizionale che abbiamo nella tabella sono in 100 grammi. Ora, vamo vedere i valori nutrizionale. Quindi, a Ghi coloca, a cada 100 grammi di prodotto, perché, l'ho visto, sto in Italia, e, in Italia, le etiquette sono già in percentage, quindi, sono più facile. Quindi, a cada 100 grammi di prodotto, lì, tem, eh, azucari, 23%, ovviamente, vamo a colocare tutto i saccarosi, e, basicamente, è esso. Calorias 349, in 100 grammi, ovviamente, è nato di volume alcolico. Polisaccarideus, anche io faccio che? A differenza è entre carboidrato e azucari, che, carboidrato 56, azucari 23, inton, temos 33 grammi di polisaccarideus, ovviamente, sarà farina, eh, perché, se hanno un panettone. Adesso, abbiamo un 11% di prodotto e di proteine, un 6,5. Questo, a cada 100 grammi, per questo, io coloquei 100 grammi di polisaccarideus, eh, ok? Adesso, se vogliamo colocare a Ghi, da sua quantità di gordura saturata, vamos ver, eh, 7,2, non temo insaturata, transa, nada, e di, eh, sodio, 370 milligrammas, ok? Diciamo che esso sono i valori nutrizionali del panettone, non colocare il prezzo di imballaggio, nada, perché non è importante, e vamos a apertar in nuovo, assicché già confermare il cadastro dei ingredienti, ok? E già abbiamo il nostro panettone, nella nostra tabella. Ancora, voltiamo il risetto, vamos a fare, eh, descriziamo il risetto, panettone, lo serveci di panettone, tanto fai, famiglia, vuoi scogliere, eh, cremes di ovo, temperatura di servizio, meno dose, anche, poverani, poterico, 30%, valore, poterà 90 gramma di gordura, un valore medio, eh, proteina, ma è o meno, 45 gramma, ma è o meno, vamos a vedere poi che è contese, 400 gramma di solito, e un po' di raddossanti di 160, ma è o meno, vamos là, inton, buscamo già il nostro panettone, panettone, e, por esperienza, esso è, la quantità giù è mai por esperienza, io se che, eh, ma è o meno, temos che colocare, 150 grammas por chilo, per dar un buon sabò di panettone. Ahi, depoiz, lecce integrale, lecce integrale, come sempre, colocarei 600 grammas, come, diciamo, regra base, e depoiz passiamo il nostro subgettivo, no, agli colloco, tambi, gemma di ovo, nelle sorvecce, genci, porche, il panettone, già, temi, gemma di ovo, e, pra mi combina ben, ma, se, se, depoiz, balanzare, questa risetta, di forma, differenzi, potete, tambi, balanzare, sin, gemma di ovo, e, pido, pessoalmente, gosto, di, colocare, specialmente, il panettone, che, eh, può, colocarei 100 grammas, di gemma di ovo, porchilo, e, agora, si, che, vamos, balanzare, nostri ingredienti, il primero, gordura, vamos, ve, gordura, mh, vamos, colocarei un poco, di creme di lecci, che, ta' faltando, ho 35%, ho 72, sgrammas, di gordura, belleza, di, di gordura, di creme di lecci, vou, buscarei, creme di lecci, aghi, 35%, e, colocarei 73 grammi, ma, come, è, sorredondato, e, poi, proteine, come, podem, ver, stamos, devo farei 45, stamo in 46,9, non, mudarà, molto, ento, vamos, deixare, essa forma, ento, non, vamos, colocare, eh, lecci, un po', desnatato, nella sedetta, pochè, non, faiz, eh, açúcares, bom, açúcares, pod, e, eh, PAC, no, che è un terzerro obgettivo, podere anticongelante, stiamo in 66, falta abbastanza, vamos, in calculadoras, e, vou colocar, ovviamente, saccarosi e dextrosi, e, vamos ver, che accontese, vou colocar, a mitaggi, lupac, in saccarosi, a mitaggi, in dextrosi, senti, dosi, 59, vamos ver, inton, saccarosi, e, dextrosi, ok, 112, 59, muito doce, eh, immaginava, che era, ia ficar bastante doce, enton, vamos, vamos, baixa un po', con esse doce, vamos, vou tirar, che era, 160, enton, unos 30 puntos, enton, volto in calculadora, alteração, pod, vou colocar, menos 30, que é a quantidade, di puntos, che quero tirar, vou escoglier, aqui, os dois açúcares, saccarosi, e dextrosi, enton, tengo que diminuir, di 50 gramma, saccarosi, e aumentar, di 26 gramma, a dextrosi, perfeito, enton, 50 a meno, dá, 72, isso, e 26 a mais, era 26, si, 26 a mais, 79, 85, ok, o solito, está bom, o poder anticongelante, também, é bom, é, o poder adoçante, era, o que a gente tinha, mais ou menos, pensado, 160, temos 70 gramas, a mais, aliás, não vou colocar, liga neutra, nessa, nessa reseita, porque, porque, além de ter, já um emulsificante, natural, que é a gema de ovo, lembrando, que as proteínas, além de ser emulsificante, também, são, espessantes, adensantes, também, mas, aqui, temos, a farinha do panetone, é, bastante farinha, que vem do panetone, são, uns, 40 e algo gramas, por quilo, então, hum, digamos, que já temos, um adensante, é, ademais, depois veremos, que, durante a fase de preparação, evitaremos, de aquecer o panetone, porque, digamos, que, os amidos, depois, de 60, 65 graus, se ativa, e aí, temos um problema, ainda maior, depois, porque, vai ressecando, vai chupando água, e, e aí, e aí, duresse, então, leite integral, a que coloco, 530, e diminuir 70, ok, 530, um pouco duro, boh, repito, não é um problema, vai, eu coloco aqui, 5 gramma de dextrose, ciro aqui, vira 145, e pronto, como podem ver, é uma reseta muito simples, praticamente, tem leite, panetone, gema de ovo, creme de leite, e açúcares, é, muito simples, sim, digamos, muitas, coisas, e nada, já temos a nossa reseta, balançada, agora, voltamos no laboratorio, para acabar, nossa reseta, para fazer a parte prática, nos vemos, lá no laboratorio, ok, de novo, de volta no nosso laboratorio, já temos preparado, todos os nossos ingredientes, como, tem visto lá, durante a fase de balançamento, é uma reseta, bem, simples, não, porque leva poucos ingredientes, não colocamos liga neutra, pela motivação, que já expliquei, durante o balanceamento, aqui, eu já tenho pesado, a parte líquida, ou seja, gema de ovo, pastorizada, a gente usa, uma gema de ovo, pastorizada, crema de leite, e leite, aqui, tem os nossos, dois açúcares, dextrose, saccarose, já, premisturado, e aqui, tem os pedaços de panetone, que usaremos, no, uns 450 gramas de panetone, que usaremos para fazer a nossa reseta, gente, tem um cheiro impressionante, esse panetone, dá vontade de comer, dele, mas, vamos fazer o sorvete, é, que, nos focamos, no que queremos fazer primeiro, ok? Então, muito fácil, gente, agora, eu vou, misturar, já, a parte líquida, com a parte sólida, por quê? Porque não tem leite em pó, não tem malto de estrela, não tem liga neutra, então, essa, é muito fácil, de misturar, essas duas coisas, então, já colocarei, praticamente, toda a parte em pó, todos os açúcares, junto com a parte líquida, vou dar uma misturada rapidinho com o nosso mixer, pronto, já misturé, como pode ver, não tem segredo nenhum, agora, a única coisa, que temos que fazer, como pode ver, eu tenho uma máquina, um pouco diferente nessa sala, que é uma máquina, que é que se esfria no mesmo corpo, então, no mesmo cilindro, aí, vou fazer o quê agora? Agora eu vou, acessar só a parte líquida, junto com o açúcares, ou seja, não vou acessar o panetone, podemos, lembrando que, eu agora vou acessar, com essa máquina, mas, podemos, tranquillamente, achese, nossos ingredientes, numa panela, pelo menos, especialmente, se estamos usando, se estamos usando, uma gema de ovo fresca, chegam pelo menos, 80, 85 graus, se é uma gema de ovo, pastorizada, não se preocupe, podem chegar tranquillamente, há uns 60, 65 graus, para misturar bem os ingredientes, ok? Então, agora, vou colocar a parte líquida, dentro da máquina, nós vemos, daqui a pouco, quando tirar a parte líquida, para misturar ela, com nosso panetone, para mostrar para vocês, quando é um momento esato, que temos que colocar o panetone, lembrando que, lembrando que, por que não coloco, já falei na parte de balançamento, eu não coloquei a líquida neutra, por que? Porque o panetone tem, ademais, que temos uma gema de ovo, nesse sorvete, mas, mesmo assim, o panetone tem farinha, e a farinha é um adensante, um espessante, um estabilizante, podemos dizer, então é inútil colocar outro estabilizante. Agora, por que não achese? Por que? Se achese um panetone, junto com os demais ingredientes, a farinha, acima de 60 graus, vai fazendo sempre mais o seu trabalho, ou seja, de chupar, chupar água, e o risco, de se sorvete, depois, ressecar e endurecer a nossa vetrina, será muito alto. Então, veremos, que, veremos, que, espera, um pouco, baixa a temperatura, e aí sim, que poderemos colocar nosso panetone. Então, achesemos nossos ingredientes, e repito, ademais, se usamos uma gema de ovo pastorizada, podemos até, chegar em 50 graus, só uma temperatura boa, para derreter bem os açúcares, e fazer que todos os ingredientes, se misturem bem, lembrando que o resto, é já tudo, tudo pastorizado. Então, vou colocar o sorvete na minha máquina, daqui a pouco, nos vemos, com a segunda parte dessa receita. Muito bem, pessoal. Então, aqui, já aqueceu, até eu esfriei um pouco, cheguei mais ou menos, a uns 70 graus, e depois, esperei de chegar a uns 50 graus, porque, repito, evitar de usar, de colocar o panetone, com nossa mistura, a 65, 70, 80 graus, porque vamos ativar, as pectinas, dentro da farinha, então, é melhor evitar isso, porque senão vai esciupando muita água. Agora, vou tirar o meu sorvete, um pouco, vou tirar um pouco de sorvete, só, só uma quantidade, a quantidade de justa, mais ou menos, que eu preciso para misturar, o meu panetone, ok? Bom, ao final, vou tirar tudo, mas tudo bem. Vamos tirar, então, o nosso sorvete, líquido, quente, e, repito, eu, que sim, nessa máquina particular, que é uma máquina, que, a que se esfria, o mesmo cilindro, mas, podemos usar, sem problema, uma pannella, ok? Vamos colocar um pedaço, de panetone, dentro do nosso sorvete, agora vamos misturar bem, nosso panetone, com nosso mixer, para, triturando, muito bem, lente, mosquete, que virá, praticamente, um líquido. Então, assim, Ok, pessoal, io già trituré tutto, tutto, con tutto, spasso, tutto. E poi, quando sai uscire, se chiederemo giocare dentro dellì un po' di uva passa, tutto bene, a consiglio sempre di mollare con alcun licor, per esempio, normalmente possiamo mollare con rum o mollare, por esempio, con vino marzala, perché no? Deixando un mollo, unos due giorni, ben un mollo, cioè prepariamo un tupperware, un recipiente con uva passa, mollo, un par di giorni, che la uva passa va sciupando bene, perché? Perché se la collociamo dentro del cervello, la reseccherà, ossia, ficarà molto secca e anche un po' dura, non per una questione di congelazione, ma per una questione che dentro da vetrini la uva resecca. Sempre, se chiederemo, ripeto, buttare un po' di uva passa, collocare nella mogliata, che sia già mogliata dentro di alcun, ripeto, un licor, un vino marzala, un vino porto, perché no? Ok? Quindi, vamos là, seguiamo con la nostra resecchetta, ripeto, io già colloqué un panettone, già trituré lì molto bene, come potete vedere, è praticamente un liquido, è tutto liquido, e ora passiamo alla fase di sfriamento. Molto bene, pessoal, la nostra macchina è finita, il cervello è pronto, come potete vedere, ho già preparato qui un po' di pedazzo, no, per decorare anche bene, allora, vamos a tirare il cervello della nostra macchina, vamos là, Allora, consistenza perfetta, molto buona, oggi, anche, facciamo un visualo differente, è, del normale, facciamo un'occhina con le curve, ok? Allora, aumentiamo la velocità, l'extrazione, anche un bel bel verran, per essere 3 kg solo che abbiamo fatto, in realtà abbiamo un bel bel verran. Allora, come potete vedere, io faccio di forma differente, si fa una montagna, si collocano due cubi, una dentro da l'altra, ben fria, lembrando che una vez che il sorveggio è pronto, tutto che toccherà il sorveggio sarà ben frio, ok? E ora, vamo a vedere come da un visual differenzi, vamo a fare, ripeto, tipo una montagna di sorveggi, intanto con una spatola, vamo alisando e lì, creando questa cosa sì, sta vendo? Ok, diciamo che la prima fase è questa, ossia creeremo questa struttura, questa forma, prima, la seconda fase si prende un'altra spatola, una spatola che sia a temperatura ambiente, perché? Perché è stata fria, se no grudano i sorveggi, e faccio il seguente, ci empuco, e allo stesso tempo vado dando una forma ai miei sorveggi, ok? Come potete vedere, sai questa forma sì, ben bonito, calcola che io ho fatto solo 3 kg, no? Normalmente si fa 4 a te 5 kg, per lasciare la aina più bonita, ma, vamo a collocare un pedaccio di panettone, aliás, a gente potrebbe anche variegare lì, eh? Bottare un variegato, se lì, di frutta vermelha, bene, ben, ben avvermelhato, per dare questo contrasto, ma, pronto, ragazzi, qui sta il nostro gelato di panettone, eh? Maraviglioso, molto lindo, eh? Non esqueci di farlo durante la epoca di Natale, o anche prima, che già si trova il panettone nel supermercato, già possiamo cominciare a fare, perché? Perché è un sorveggi molto buon, che il persone adorano, ripeto, possiamo poi variegare lì con un po' di frutta vermelha, morango, qualcosa che dà un buon contrasto, eh? Ok? Bom, diciamo che questa aula acaba qui, spero tutti voi nella prossima aula, nel nostro canale di Youtube, siga a noi nel nostro Instagram, iscriviti qui sotto, sapete che già hai molti dici sul nostro canale, non sai quanti video già hai, hai video sobre sorveti, sobre preparazione di altre cose, torta, tiramisu, cremino, cremino di Nutella, cremino di caramelo, hai molti video, se non hai guardato, guardate la nostra lista di video, che potete apprendere molte cose con noi quindi, ripeto, spero tutti voi nelle prossime live e aulas registrati un bello di Roma, perché io sto in Roma ora, un bello di Roma e nada, ci vediamo nel prossimo video, ciao, pessoal! Ciao! 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 Ciao!